La tasse sui rifiuti è il principale argomento di scontro fra maggioranza e opposizione in Consiglio Comunale a Novi Ligure. Era stato il PD in particolare, puntare il dito sull'amministrazione, che avrebbe aumentato le tariffe a danno ai cittadini a caso di un errore nei conti, evidenziato dai dati del CSR, dove se vince uno scostamento notevole tra il piano economico-finanziario, silato dal Consorzio per definire i costi di raccolta e smaltimento rifiuti, è quanto deliberato nel Consiglio Comunale del giugno scorso. Una differenza di circa 1.300.000 euro ai danni dei cittadini. Il gruppo Democratici per Novi, nelle scorse settimane, aveva presentato un'interpellanza alla quale nel sindaco Cabella e nell'assessore al bilancio Moncalvo avevano risposto chiedendo tempo per approfondire la questione con gli uffici comunali. Ora la risposta tanto attesa è finalmente arrivata, ma ha lasciato totalmente soddisfatti gli interpellanti. Da quanto espresso dall'assessore Moncalvo, sembrerebbe evidente, infatti, che i tempi per chi arriva la questione saranno ancora lunghi, a danno dei novesi. L'impensabile prendeva ancora tempo, sottolineano i consiglieri del Partito Democratico, perché il gettito della Tari vale circa un quarto del bilancio comunale e non permetteremo che il problema finisca nel dimenticatoio. Della redazione di Montalvo continua ancora l'opposizione. Prendiamo atto che anche loro i conti non tornano, ma non hanno capito il perché. Inoltre, è sparita dalla medesima l'accusa alla precedente amministrazione lanciata dal consigliere Perocchio, dimostrando di non sapere gestire una realtà complessa come il nuovo sistema di raccolta differenziata, avviato con un notevole ritardo e causando un aumento dei costi, non raggiungendo poi le quote previste per legge, con lo rischio per i cittadini di vedersi combinare multe inattese.